Tieni, ti rendo ciò che è tuo. Non voglio sapere chi sei e cosa c'è nel cofanetto. Sei stata buona a restituirmelo. C'è una pelle qui dentro. Te la dono perché tu te ne faccia fare una tunica che ti renderà invulnerabile. Sotto la pelle di Daino c'è poi una polvere grigia e quando un essere buono la spargerà sul lago, io sarò liberato dalla maledizione di spina de mulle e potrò tornare a vivere nei boschi. Io scioglierò l'incantesimo. Che fai? Che c'è qui dentro? Andiamo, vieni con me. Andiamo a cercare l'argento nel lago. Grazie.